buongiorno a tutti bentrovati alla rubrica domanda risponde quest'oggi parleremo dell'argomento del giorno mobilità 2024 2025 ci siamo è stato firmato un accordo proprio pochi minuti fa riguardo proprio le regole di chi potrà fare domanda di mobilità per il 2024 2025 rimane l'impianto delle norme del contratto 22 25 dal punto di vista proprio squisitamente normativo e ci sono delle deroghe ai vincoli di mobilità diciamo acquisite dal contratto collettivo nazionale 2019 2021 vediamo a rispondere ad alcune domande il titolo della rubrica di oggi è mobilità 24 25 accordo trovato si attende adesso l'ordinanza ministeriale per conoscere le date di presentazione delle domande domanda numero uno sono una docente entrata in ruolo nel 2023 2024 a tempo indeterminato dal concorso 2020 non ho situazioni di disabilità non ho figli di età minore di 12 anni e non ho situazioni riguardanti il diritto di assistenza a miei familiari potrò fare mobilità interprovinciale o almeno domanda di assegnazione provvisoria purtroppo le regole della mobilità 24 25 sono diverse da quelle della mobilità 2023 2024 mentre gli immessi ruolo 22 23 da concorso 2020 hanno potuto fare domanda di mobilità per l'anno scolastico 2023 2024 adesso i docenti entrati in ruolo a partire dall 1 settembre 2023 non potranno fare domanda di mobilità almeno che non esistono particolari condizioni previste proprio dall'accordo firmato oggi 21 febbraio quindi dallo stesso ecco una mia riflessione personale dallo stesso concorso si viene assunto il ruolo l'anno prima non ci sono vincoli l'anno dopo intervengono i vincoli dovuto proprio a un intervento legislativo diciamo che non è stato prorogato per quest'anno domanda numero 2 sono una docente entrato in ruolo nell'anno scolastico 2022 2023 da gae ma non ho svolto l'anno di prova nel 22 23 lo sto svolgendo nell'anno scolastico 2023 2024 inoltre assisto mia madre con legge 104 92 in stato di gravità potrò trasferirmi dalla provincia di titolarità alla provincia dove vive mia madre con precedenza per assisterla allora potrà fare domanda di mobilità sicuramente in quanto non è soggetto a nessun vincolo però non potrà fruire della precedenza per assistere il genitore che si trovi in stato di gravità e che ha la 104 tale precedenza è prevista solo per la mobilità annuale cioè per le assegnazioni provvisorie e non per quella territoriale che verrà presentata fra pochi giorni dunque domanda di trasferimento sì precedenza no domanda numero 3 l'anno scorso ho ottenuto trasferimento interprovinciale per l'anno scolastico 2023 2024 su una preferenza di natura sintetica cioè ho espresso o il distretto il comune ottenuto una scuola di quel comune di quel distretto si trova vincolato diciamo per poter far domanda di mobilità nella mia provincia di titolarità per avvicinarmi al comune di mia residenza potrò fare questa domanda se non esistono motivi di precedenza cioè avere la 104 o avere una 104 per l'assistenza del genitore del coniuge del figlio il docente che ha ottenuto il trasferimento interprovinciale per l'anno scolastico 2023 2024 si trova vincolato per altri due anni scolastici e sarà costretto a restare titolare nella scuola di attuale titolarità speriamo che le risposte che abbiamo dato a queste domande siano utili ai nostri telespettatori proponeteci le vostre domande ne faremo articoli ne daremo risposta attraverso la rubrica domanda risponde cercheremo di soddisfare diciamo i vostri dubbi e i vostri quesiti seguiteci nei nostri canali social facebook e youtube perché andranno in in questi giorni proprio delle dirette mirate a spiegare la mobilità 2024 2025 arrivederci a tutti